Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono King e vi do il mio benvenuto sul mio canale King's Arts E come detto dal titolo vi mostrerò come sbiancare le suole con la lampada raggi ultravioletti Prima di tutto buon 2021 a tutti quanti Buon 2021 a chiunque mi stia seguendo o chi mi stia conoscendo da questo video O chi ha sentito parlare di me ma ancora non sapeva niente di cosa faccio Buon 2021 sarà un anno molto bello soprattutto per questo canale Questo per me perché ci sarà tanta qualità, tanta costanza e soprattutto tanto impegno che vedrete Nelle mie storie di Instagram, quello personale che è questo qua Quello di King's Arts che è quest'altro qui e quello su TikTok che è questo qua Comunque oggi vi ho portato come letto dal titolo appunto Come sbiancare le suole gialle con la lampada ultravioletti La prossima volta quando ci sarà caldo vi mostrerò come farlo col sole Comunque la lampada raggi ultravioletti è molto utile perché Primo è anche un po' più potente Poi può essere usata come alternativa durante l'inverno O quando proprio fa freddo O quando semplicemente siamo in estate ma piove Io ho scelto quella da 50 watt perché mi è sembrata quella più potente Presto potrei fare anche acquisti con una più potente Magari in un prossimo video Poi andremo a usare degli altri utensili o strumenti Che è la pellicola trasparente Crema ossigeno 40 volumi Soprattutto un pennello o uno spazzolino per poterla passare A questo punto non ci resta che iniziare Per procedere ci muoveremo in questo modo Mettiamo la lampada da parte Anche una scarpa la mettiamo da parte Così faremo le riprese prima e dopo Prendiamo questa qui per lavorare E questa qua la mettiamo da parte Prendiamo quello che ci serve Cioè crema 40 volumi Spazzolino rosa whey E la pellicola trasparente Adesso non ci resta che Passare con lo spazzolino la crema sulla suola Metterci sopra la pellicola in modo che si estenda Parlo dell'oschino E poi esporremo dietro nel kit con la lampada E vi mostrerò come funziona tutto E poi si è tipo uno spazzolino la crema sulla suola E poi si stai un cuore E poi si è piaciuto 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 Ok abbiamo passato la crema Abbiamo passato la pellicola Adesso non ci resta che sporra la lampada Con tutto il kit E vedremo come verrà Andiamo Molto bene La sessione da due ore è stata completata Adesso togliamo la pellicola Già sembra più bianca così Adesso questa pellicola la buttiamo E intanto Diamo una ripulita Per poi forse ripetere ancora la sessione Ok abbiamo ripulito tutto Come potete ben vedere già il risultato della prima sessione Già da quella in cui non abbiamo ancora toccato Adesso andremo a ripetere un'altra sessione perché si penso che un'altra sia anche sufficiente Potevamo fare tre però No penso che due possono bastare Almeno per questo perché in fondo è una scarpa di qualche mese fa L'ho usata anche stra poco come detto dal cliente Quindi la seconda basterà Questa qui la rimettiamo da parte E poi faremo il prima e dopo Alla fine del video Alla fine del video Alla fine del video Alla fine del video Molto bene La seconda sessione è stata completata E come potete ben vedere il risultato Questa è la parte che adesso andremo a fare E poi La sbiancatura di questa scarpa sarà finalmente finita Alla fine del video 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 Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo primo video del 2021 Spero che vi sia piaciuto in modo immenso O almeno che vi sia piaciuto Questo è il primo video appunto Vi lascio sotto in descrizione tutti gli altri Così non vi perdete niente Se vi siete appena iscritti O siete venuti a sapere di me praticamente adesso Questo sarà un anno molto importante per me Perché sarà un anno di produzione Un anno di azione E si pensa almeno di far uscire Almeno 4 video al mese Che saranno quindi 48 in un anno Sarà tanta roba E la parola dell'anno è costanza Quindi sarò molto costante Soprattutto sui miei social A proposito di social Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto Lasciate un like Commentate con un prossimo video che volete vedere Iniziate a seguirmi anche su TikTok King of Kingsarts Sul mio Instagram Darking Che è questo qua O su quello del canale Che è Kingsarts appunto Ah ho anche Diciamo aperto il gruppo Telegram Che vi lascio il link qui Insieme a tutti gli altri video E tante altre cose Quindi Il video finisce qua Spero vi sia stato davvero davvero utile Come ho detto prima E ci vediamo al prossimo video Io sono King Qui è Kingsarts Ci vediamo al prossimo video Bella